Il Paradiso delle Signore, nuove puntate, Maria e Flora, Stefania lascia il magazzino. Le nuove puntate del Paradiso delle Signore 7 si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena. L'appuntamento con la Sopopera continuerà ad appassionare il pubblico e gli spettatori della rete Amiraglia e, al centro delle trame, ci saranno le vicende di Flora Ravasi. La stilista avrà modo di riavvicinarsi ad Umberto e, nel corso dei prossimi appuntamenti, riuscirà ad ottenere anche il perdono di Maria dopo i torti e gli sgarri che le ha fatto. Spazio anche alle vicende di Stefania che, nelle prossime puntate della Sop, deciderà di lasciare il magazzino milanese. Nel dettaglio, le nuove puntate del Paradiso delle Signore 7 in programma dal 12 dicembre in poi sulla rete Amiraglia Rai. Rivelano che Flora Ravasi cambierà idea sul conto di Umberto. Il commendatore Guarnieri, infatti, ha spezzato e stupito Flora con un prezioso anello di fidanzamento con il quale intende riconquistare di nuovo la sua fiducia e il suo amore. Un gesto spezzante per la stilista che, a quel punto, è tornata a mettere in discussione il suo sentimento nei confronti del commendatore, accettando di riprendere in mano le redini della loro relazione. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso delle nuove puntate di questa settima stagione della Sop opera pomeridiana, ci sarà anche un riavvicinamento tra Maria e Flora. Nonostante i torti che la stilista ha messo in atto nei confronti della giovane Maria, quest'ultima deciderà di mettere una pietra sopra al passato e sarà al fianco di Flora in questo momento importante della sua vita. Puglisi, infatti, gioirà assieme a Flora per l'anello di fidanzamento che ha ricevuto dal commendatore Umberto e, a questo punto, farà il tifo per loro affinché possano convolare a nozze al più presto insieme. E poi ancora, al centro delle nuove puntate del Paradiso delle Signore 7 ci saranno anche le vicende di Stefania. La Venere, infatti, deciderà di essere al fianco del suo amato Marco dopo che quest'ultimo ha ricevuto una importante proposta di lavoro che lo porterà a doversi trasferire per un po' di tempo in America. Di conseguenza, Stefania accetterà di seguire Marco e annuncerà le sue dimissioni dal grande magazzino milanese. La Venere chiederà a Vittorio di poter avere un incontro al negozio, durante il quale gli comunicherà la sua decisione di lasciare il Paradiso per stare al fianco di Marco in questa avventura che li porterà a Washington. Grazie. 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 Grazie.